Arkin, è questo qua? Soldati dell'Alleanza. Anch'io potevo essere un marino. Invece mi sono arruolato in quel dannato SSC. Il più grande errore della mia vita. Sei Arkin, vero? Mi hanno detto che potresti aiutarmi a trovare un agente SSC. È un Turian di nome Garrus. Garrus? Devi essere un membro dell'equipaggio del Capitano Anderson. Quel bastardo sta ancora cercando di ammazzare Saren, eh? Io so dov'è Garrus, ma prima dovrai dirmi una cosa. Il Capitano ti ha confidato il suo grande segreto. C'è qualcosa che dovrei sapere sul Capitano. Il Capitano era uno spettro. Non lo sapevi, vero? Era una cosa ultra segreta. Il primo spettro umano della storia. Ma poi ha mandato tutto all'aria. Ha incasinato a tal punto la sua missione che lo hanno cacciato a pedate. Lui dà ancora la colpa a Saren. Dice che il Turian l'ha incastrato. Hai detto che era tutto segreto. Ma allora chi ti ha raccontato questa storia? Ho lavorato vent'anni in questa dannata cittadella. Qui la gente ama parlare. I segreti si diffondono come l'herpes. Una volta che te lo becchi, lo attacchi agli altri. Sei una persona repellente. E te ne sei accorto solo adesso? Dimmi solo dove è andato Garros. Garros voleva parlare con la dottoressa Michelle. Dirige una clinica dalla parte opposta degli agglomerati. Credo sia andato proprio lì. Ma se io andassi di qua? Che non mi ricordo più. Queste stanze sono private. Riservate a Fiste e ai suoi amici. Arrivederci. Divertiti. Fanculo. Vai alla clinica. Perfetto. Perché il capitano Anderson non ci ha detto che era uno spettro? Forse non è vero. Archini è un bastardo. Scommetto che si sta prendendo gioco di noi. Hai ragione. Ma vorrei sentire cosa ha da dirci il capitano su tutta questa storia. Allora, 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 allora. Andiamo prima da Anderson. Clinica. Allora, qui dovrebbe trovarsi... Anderson. Non l'ho detto a nessuno, lo giuro. Cazzo giù. Cazzo giù. Se Garrus si facesse vivo, tieni la bocca chiusa. Altrimenti... E tu chi sei? Lasciala andare. Di cazzo giù. Di cazzo. Allora. Guarda quello con il memore. Morti tutti? Ottimo tempismo, Shepard. Hai colto di sorpresa il bastardo. Così ho potuto farlo secco. Ma cosa le è saltato in mente? Poteva uccidere l'ostaggio. Non c'era il tempo per pensare. Ho reagito distinto. Non volevo... Dottoressa Michelle, è ferita. No, sto bene. Grazie. Grazie a tutti quanti. Ho sentito che quei tizi la stavano minacciando. Possiamo proteggerla, ma solo se mi dice chi li ha mandati. Lavorano per Fist. Volevano che tenessi la bocca chiusa. Che non raccontassi a Garrus dell'Aquarian. Indovinate l'Aquarian chi è. Un'Aquarian? Qualche giorno fa... Un'Aquarian si è presentata nel mio ufficio. Era ferita, ma non ha voluto dirmi chi era stato. Era terrorizzata. Credo stesse scappando da qualcuno. Mi ha chiesto dell'ombra. Voleva fornire delle informazioni in cambio di un nascondiglio sicuro. Dove si trova adesso? L'ho messa in contatto con Fist. Lui è un agente dell'ombra. Non più. Ora lavora per Saren. E l'ombra non ne ha affatto contenta. Fist ha tradito l'ombra? Sarebbe da stupidi. Saren deve avergli fatto un'offerta che non poteva rifiutare. L'Aquarian deve avere qualcosa che interessa molto a Saren. Una cosa talmente importante da giustificare il tradimento dell'ombra. L'Aquarian deve avere le prove che dimostrano che Saren è un traditore. Le aveva detto qualcosa su di lui? O sui Ghett? Sì. Erano queste le informazioni che voleva scambiare. Aveva detto che c'entravano i Ghett. L'Aquarian potrebbe legare Saren ai Ghett. Il Consiglio non potrà ignorare questo fatto. Facciamo un salto da Fist allora. Questa è la tua missione, Shepard. Ma ti assicuro che anch'io voglio eliminare Saren. Verrò con te. Lei è un Thurian. Perché vuole eliminare un membro della sua specie? Durante le mie indagini non sono riuscito a trovare le prove che mi servono. Ma so bene cosa sta succedendo. Saren ha tradito il Consiglio e la fiducia della mia gente. Allora benvenuto a bordo Garros. Non siamo gli unici sulle tracce di Fist. L'Ombra ha ingaggiato un cacciatore di taglie per farlo fuori. Un Krogan di nome Vrex. Sì, l'abbiamo visto nel locale. Un Krogan potrebbe tornarci utile. Ho sentito che si trova all'Accademia SSC. Cosa ci fa laggiù? Fist lo ha accusato di averlo minacciato. Abbiamo portato dentro Vrex per un breve interrogatorio. Se vi sbregate potete trovarlo ancora all'Accademia. Andiamo. Oh, che bello. Posso mandare a fanculo Kaidan. Allora, Ashley. E Garros. E la missione di Garros è andata. E la missione di Garros.